Musica Ben trovati con la pagina sportiva per la undicesima volta nella sua storia. Il Riezzo giocherà il 6 gennaio una partita di campionato. Finora il bilancio parla di 6 successi. Amaranto 3 pareggi e 2 sconfitte. C'è un precedente al comunale proprio contro il Rimini. Rimini proprio 20 anni fa nella straordinaria stagione culminata con il ritorno in Serie B del Riezzo. Gli Amaranto allora diretti da Mario Somma superarono i biancorossi romagnoli per 1-0 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Matteo Serafini. Il trequartista Amaranto, protagonista di una stagione eccezionale, blindò con la sua rete una vittoria pesantissima anche nella prospettiva vittoria finale. Nel complesso, il 6 gennaio, sono state 11 le partite giocate fino a questo momento dall'Arezzo. L'ultima volta fu allo stadio di Bolzano dove arrivò una sconfitta contro il suttiro di Fischnaller, l'attaccante che proprio prima di Natale segnò l'Arezzo nella partita di Sassari. 4-3 nella gara giocata al mattino e fatta slittare per l'orario. Infatti l'erba era troppo ghiacciata, il direttore di gara giustamente antepose la sicurezza dei calciatori alle esigenze della stessa Lega Pro. Altre due vittorie sono arrivate a Benevento nel 2000, doppietta di Bazzani e Venezia 2005. Gol di Spinesi a Bruscato, tornando a Rimini non dimenticando la partita di andata vittoriosa per l'Arezzo 2-1, reti di Gucci e Iori. Il non recente passato si ricorda il 2-0 nel 2016 con il successo a Rimini, mentre il risultato più pesante lo tenne con Sassari in panchina. Un 4-1 che dette però una grande illusione tra i doppi ex, non dimentichiamo Ricchiuti da una parte e Moscardelli dall'altra. E la partita tra Rezzo e Rimini, valida come prima di ritorno della Serie C Girone B, verrà diretta dal siciliano Enrico Giamelli di Messina in collaborazione con gli assistenti Renzullo di Torre del Greco, Pelusi di Ercolano, quarto uomo Edoardo Manedo, Mazzoni di Prato. Passiamo adesso al Montevarchi, parla il presidente Angelo Livi, il numero 1 rosso-blu, sottolinea la serenità con cui la squadra ha ripreso la preparazione in vista della rincorsa salvezza in questo girone di ritorno. Ci voleva una prestazione, questa è arrivata proprio nell'impegno più difficile, perché a Grosseto, prima della sosta, il Montevarchi ha giocato una partita da squadra. Angelo Livi, che di calcio ne mastica da una vita, è ottimista. Che la squadra abbia avuto qualche modifica è lampante sotto gli occhi di tutti. Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio per il bene della squadra e per il bene di tutti i ragazzi. Cerchiamo di che siano in condizione di poter dare tutti anche di più di quello che possano dare. Le polemiche delle scorse settimane sembrano essere sopite e questo è un bel segnale per tutto l'ambiente. Le polemiche vanno benissimo a saperle accettare, io credo che noi le sappiamo accettare, anche se qualcuno pensa il contrario. Io ho notato soprattutto nel nostro consiglio unità di intenti, un'unica voce per tutti, la volontà di poter proseguire, di poter andare avanti e cercare di far bene in questa stagione perché è molto importante per noi. E domenica trasferta contro una delle squadre più forti del girone. Il Serravezza fa paura ma il Montevarchi è consapevole del fatto suo. I ragazzi si stanno preparando e che lo facciano in assoluta tranquillità, ma con la giusta determinazione di poter far bene anche a Serravezza perché abbiamo le carte in regola per poterlo fare. Lascia la San Giovanese anche Fabrizio Simonti, lo ha reso noto la Società Azzurra nel pomeriggio con una nota che saluta, ringrazia il giocatore per il contributo dato, prosegue l'opera di ristrutturazione nel Marzocco caratterizzato anche da adi eccellenti. E a proposito di arrivi, ecco lo scopriamo uno oggi in casa San Giovannese, Antezza. Uno dei due ultimi arrivati Stefano Antezza, chiaramente in questi casi ci si presenta cosa possono aspettarsi da Stefano Antezza i tifosi della San Giovannese. Io posso solo dire che ci metterò il massimo dell'impegno come ho sempre fatto per raggiungere l'obiettivo che sappiamo tutti. A livello di ruolo possiamo considerarti una stata di jolly? Sì assolutamente, nella mia carriera mi sono sempre adattato molto, quindi questo può essere una cosa positiva sia per me che per la squadra. Centrale di difesa, centrale di centrocampo, sia a tre che a quattro? Esattamente, sì ho giocato con entrambi i moduli, non ho problemi, io sono a disposizione del mister. Un girone molto diverso da quello che facevi? Sì, non conosco questo girone ma tutti me ne hanno parlato bene, quindi c'è sicuramente da correre, da lottare e da aiutarsi perché ci aspetta un gran giorno di ritorno. Sono sicuro che ci toglieremo le nostre soddisfazioni. Le prime impressioni dei compagni e dell'ambiente San Giovannese? Io sono rimasto molto colpito da quest'ambiente, mi ha fatto un'ottima impressione, oggi è stato il primo allenamento. Sono davvero molto contento, ci sono bravi ragazzi, buoni giocatori, quindi c'è tutto per poter far bene. E' tutto per lo sport, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.